Sono Gloria, vengo da Cremona, parto per il Brasile, per Salvador De Bahia, con un progetto diocesano aperto da pochi anni, con l'invio di un sacerdote diocesano cremonese. Andrò in questa parrocchia che si chiama Jesucristo Ressuscitado, mi inserirò nelle attività della parrocchia e anche nelle attività delle strutture che ci sono nel quartiere e nella parrocchia stessa. Il mio invio e anche quello di altri dopo di me vorrebbe essere un proseguimento di questo progetto che è più che altro uno scambio con l'Arcidiocesi di Salvador De Bahia e capire anche, oltre a inviare laici e sacerdoti, come proseguire questo scambio. Mi inserirò nelle attività parrocchiali, quindi il catechismo, l'animazione della messa e poi quello che ci sarà da fare, perché una volta che si arriva poi ci saranno tante altre cose di cui non ti aspetti e poi un accompagnamento nelle scuole intorno alla parrocchia, quindi scuola dell'infanzia, dopo scuola, sia come volontaria che magari per la formazione per gli insegnanti. Missione è incontrare e accogliere, è anche uno scambio perché non si può partire per la missione pensando di andare a fare chissà che, però quando si arriva la frase ricevi più di quello che hai donato è vera, è retorica forse, per chi non l'ha mai fatto ma è vera, ma quello che hai ricevuto poi se non lo metti in circolo rimane a te ma poi non si moltiplica.